Quando ho conosciuto Ray, ero nel giro degli steroidi. Ero proprietario di una palestra e li prendevo anch'io. Quindi per tirare su un po' di soldi, quando li prendevo per me, ne compravo un po' di più che poi rivendevo agli amici. Ray scoprì il segreto, come lo chiamava lui, e diventammo ottimi amici. Io gli procuravo qualunque cosa volesse. Ho conosciuto Sally tramite lui. Una volta avevo degli integratori per Ray, cioè degli steroidi. E lui l'ha portata con sé. Vedendo i risultati che otteneva Ray, ho pensato, forse dovrei usare gli steroidi. Così ho usato... l'Annavar. Perché permette di sollevare pesi. Non prendevo steroidi continuamente. Quella era la prima volta che li usavo. Non seguivo la massa, ma quella volta l'ho fatto. C'era qualcosa che mi aveva sbilanciato. Volevo vincere a tutti i costi per ottenere l'approvazione di mio marito. Approval.